. Usati due pesi e due misure, Gianluca impastato furioso contro GF Vip, cosa ha svelato su Bossari e Malgioglio foto, video. Gianluca impastato contro il GF Vip? Le parole al vetriolo. Continua su Vill Vemagazzine l'invettiva di Gianluca impastato contro il GF Vip dopo aver espresso già nella casa e al momento della squalifica un certo malcontento per il trattamento subito. . Accettato il verdetto dopo la bestemmia, il comico di Colorado ha fatto sapere di avere la coscienza pulita e di considerare ingiusta la sua espulsione dal reality. Inoltre ha ribadito di aver citato una battuta dell'amico Diego Abbatantuono durante il momento incriminato. Credo fortemente ci sia stato un processo alle intenzioni e soprattutto per il mio episodio e quello di Predolin siano stati utilizzati due pesi e due misure ha dichiarato Gianluca impastato contro il GF Vip, ma non è finita qui. La sua rabbia e il disappunto sono stati indirizzati anche verso Daniele Bossari e Cristiano Malgioglio. Gianluca impastato contro il GF Vip, lo sfogo sui due compagni della casa. . Io non ho bestemmiato ha spiegato ancora a Del Bay Magazine Ci sono stati altri episodi nella casa che sono stati sottovalutati. Daniele Bossari ad esempio ha detto, ma bonna, ma nessuno ci ha fatto caso. Anche Malgioglio ha aggiunto ancora nella casa sta facendo tutto un suo gioco, diverso da quello degli altri concorrenti. . È privilegiato e protetto, soprattutto durante una settimana in cui sarebbe dovuto andare in nomination e non ci è andato. Gianluca impastato contro il GF Vip si scaglia anche per l'episodio che vede coinvolto Luca Onestini, sarà espulso anche l'ex tronista per la presunta bestemmia proferita alle 3 di notte dopo la puntata del 16 ottobre. . . .